Si apre venerdì all'ex opera Cerignola nel Foggiano la quinta edizione della Fiera del Libro dell'Editoria e del Giornalismo, organizzata dall'Associazione Culturale Oltreva Bene. Un altro giorno in cui molti saranno gli ospiti prestigiosi, da Pino Aprile a Michele Mirabella, passando per Flavio Reglio, Stefano Passina e Piero Bellun nella serata finale, che presenterà il suo libro I denti kit di un ribelle e si prevede il tutto esaurito. Nelle tre mattinate della Fiera spazio ai laboratori per le scuole primarie e secondarie.